La missione di Wuhan era quindi studiare i coronavirus dei pipistrelli per capire quali fossero in grado di contagiare l'uomo senza la necessità di passare da un animale intermedio. C'erano dei segnali infatti che i virus si stessero ricombinando fra loro, scambiandosi pezzi di codice genetico e dando vita a nuovi virus con nuove capacità. Sotto la lente della ricerca finisce così la proteina Spike, come abbiamo visto, la chiave che il virus usa per entrare nelle nostre cellule. Nel 2015 la professoressa Shee si rivolge ad uno dei maggiori esperti nella costruzione di virus sintetici. È il professor Ralph Baric dell'Università del North Carolina, il più grande esperto al mondo di coronavirus. Insieme i due scienziati costruiscono un virus ibrido, la famosa chimera di cui aveva parlato il TG Leonardo, tornato a circolare in rete qualche tempo fa. Un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS ricavato da topi e nesce un super virus che potrebbe colpire l'uomo. Realizzato in America col finanziamento anche dell'Agenzia del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, l'esperimento aveva dimostrato che la proteina Spike era in grado di legarsi al recettore umano e di infettare le cellule direttamente, come ci racconta il protagonista di questa ricerca, il professor Baric, che per la prima volta parla in Italia. In sequence databases, there were sequences for a large number of bat coronaviruses that were SARS-like, reported out of China. And in that massive pool, you could imagine there are strains that might be able to use human cells just fine. And so the question in the scientific community is going to, is there going to be, if a new strain emerges, is it going to be able to, you know, is it pre-programmed to cause an outbreak of disease or does it have to go through the sort of sequential steps of mutations? So the important parts, the important take home messages from that paper was that there are viruses that exist in bat species pre-programmed to jump between species or replicate just fine in humans. We had no access to the viruses in China. All we had was access to the sequence. And so you can chemically synthesize the sequence of the virus in the laboratory and make the virus sequence and then recover the virus. Dopo l'esperimento col professor Baric, nel 2017, il team di Wuhan pubblica le sequenze di 11 nuovi coronavirus di tipo SARS, identificati ancora nel sud della Cina, nello Yunnan. Ricombinando alcuni di questi virus in un progetto sempre cofinanziato dal governo americano, i ricercatori costruiscono 8 diverse chimere. Due di loro sono in grado di infettare le cellule umane. La prova, ancora una volta, che i coronavirus dei pipistrelli sono pronti a fare il salto senza bisogno di passare da un altro animale. There were two teams in the world who were very good at making chimeric viruses, and they were both working on SARS-like coronaviruses. One in North Carolina under Ralph Baric, and one in Wuhan under Xi Zhengli. And they both developed techniques for combining two different parts of different viruses into one virus. The backbone of one virus and the spike protein from another virus. These experiments were being done to understand how virulent, how dangerous coronaviruses were, particularly SARS-like coronaviruses. In order to be able to be ready to combat a pandemic, they warned the world in a publication in 2015, jointly between Professor Baric's team, Xi Zhengli's team, that they were capable of making more dangerous pathogens, and that this was a risky line of research. Avete dato al virus una marcia in più? L'avete potenziato? The only gain of function that occurred in that virus is that we changed its anagenicity. And what that data tells you is that any vaccine or antibody that you'd made against the original virus from 2003 wasn't going to protect the public against any new of this new virus if it should emerge in the future. Se guardassimo il genoma della vostra chimera, capiremmo che era stata fatta in laboratorio? Anything that we build in the laboratory has what are called signature mutations. It's like a little... It's where you signed your name, almost. It says you put in these mutations and it says this was built from material in the Baric laboratory. Ma se non vuoi lasciare questa firma, puoi costruire in laboratorio un virus indistinguibile da un naturale, giusto? It is correct. You can do it without leaving a signature. Yes. We're using any of the three or four different approaches for coronavirus that were developed by different researchers. You can leave no trace that it was made in the laboratory. Immagino che sappia perché insisto a chiederglielo. If you think that people can engineer a virus genome and that it'd be infectious and leave no trace, they have to start from a template somewhere. You have to know, you have to have a sequence to begin with. You can't just put a sequence together to make a virus. E questo modello su cui costruire una chimera non potrebbe essere il virus trovato nel 2013? Il cugino RATG13? Quindi lei esclude che SARS-CoV-2 sia una chimera fatta in laboratorio? Not with the viruses that have been sequenced and reported to date. In laboratorio possono esserci dei virus di cui non sappiamo nulla? That's certainly possible. If you're asking about intent or whether the virus existed beforehand, it would only be within the records of the Institute of Virology in Wuhan. I database sono pubblici? When they publish their papers, they download the sequences that they have associated with the paper. Do I know that they put every single sequence in that? How would I know? You end up with millions of sequences, so... Cercando negli archivi della rete, abbiamo scoperto che la professoressa Ski aveva messo a disposizione della comunità scientifica un ricchissimo database. Una banca dati specializzata in virus di pipistrelli di roditori che conteneva dati relativi a più di 20.000 campioni e virus raccolti negli anni in diverse parti della Cina. Riportava informazioni molto dettagliate, le coordinate GPS del luogo di campionamento, il tipo di virus trovato, se il virus era stato sequenziato o isolato, cioè fatto crescere in culture cellulari. Il database prevedeva un accesso tramite password per consultare i dati relativi ai virus non ancora pubblicati, con l'obbligo solo di non divulgare le informazioni fino alla loro pubblicazione. Da giugno 2020, però, la pagina intera è stata rimossa dal web, ma secondo questo portale che monitora le banche dati di carattere scientifico della Cina, i dati erano inaccessibili già dal 12 settembre 2019. The rest of the world, including the World Health Organization, needs to ask the Chinese authorities, very politely, to be much more transparent about what experiments were done at the Wuhan Institute of Virology. If this virus was not created there, or cultured there, then they have nothing to hide, and they should be able to help us clear up this mystery. Whether the virus we now see arose through transfer to humans and transfer among humans for months that were undetected, or whether it escaped from a laboratory experiment, knowing unless you find the smoking gun, as we say here, where you find the virus in the Chinese lab. Non sapremmo mai che cos'è successo a Wuhan. If the Chinese don't want us to know, we will never know.